Robert, Bob, le sonnere de cloche officielle, qu'est-ce che c'è l'U-T-M-B pour vous? Eh beh, au début ça a été familial, on était 700 et quelques participants et il y en a 67 sont arrivés. Prima di reinventarsi come il suonatore ufficiale di campanacci per l'U-T-M-B, la caramessa internazionale di trail running che si tiene tra i due versanti del Monte Bianco con base a Chamonix, Robert Tellen, 21 anni, è stato anche lui un trail runner, otto campionati mondiali alle sue spalle e diversi podi. Arrivò a Chamonix proprio quando iniziavano i lavori di costruzione del tunnel del Monte Bianco, a cui partecipò come operaio, e vi rimase dedicandosi fino a 76 anni alla sua passione per la corsa. Quando il medico gli ha imposto di smettere di correre, lui ha allora deciso di partecipare comunque alle gare, ma con una veste un po' diversa. Bélicatrice Bélicatrice